Buongiorno e ben trovati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di Futura News. Iniziamo subito con la prima pagina del quotidiano La Stampa di Torino, la cronaca locale. L'ultima carta di cota, un appello al Quirinale. Regione, oggi la firma del decreto che convoca le elezioni. A centropagina troviamo la fotonotizia e i lupi scendono in pianura. Un esemplare di 18 mesi travolto e ucciso da un'auto ad Airasca. In taglio alto invece vediamo la notizia che Torino presenta il suo logo per l'Expo. Ci spostiamo subito nella prima pagina interna della cronaca di Torino. Si parla appunto di cota e delle elezioni regionali del prossimo 25 maggio. È il giorno di cota, convoca le elezioni. La Cassazione deve decidere in tempi rapidi sul ricorso i decreti per il voto del 25 maggio illustrati alla conferenza dei capogruppo. 51 seggi in palio a Palazzo Lascaris. Nell'articolo di Maurizio Tropeano viene riportata una dichiarazione dell'ex governatore cota. La nostra unica preoccupazione è che la Cassazione decida in tempi rapidi e utili perché la campagna elettorale e il procedimento elettorale non risultino viziati dall'incertezza. Passiamo alla prima pagina della Repubblica, sempre su Torino. L'apertura è dedicata all'occupazione all'università. La laurea vale ancora un lavoro. In Piemonte percentuali di occupazione sopra la media nazionale. Il caso è stato in un certo senso occupato il cortile dell'università per quello che riguarda il numero chiuso di psicologia. Infatti l'Ateneo Torinese e la facoltà di psicologia era uno dei pochi dipartimenti ancora ad accesso libero e appunto è in discussione il numero chiuso per questa facoltà. Quindi gli studenti si sono mobilitati occupando questa notte appunto il cortile e continuando con un presidio che ha coinvolto circa un centinaio di studenti. Ci spostiamo sulle prime pagine nazionali. Torniamo sempre sulla stampa che apre con Renzi. meno tasse da aprile. Oggi al via il DDL il premier. Le coperture ci sono indiscutibili e oggettive. Legge elettorale intesa regge a fatica. No a preferenze per pochi voti. A centropagina c'è la fotonotizia della morte di un 15enne che infiamma la Turchia. Il giovane era stato colpito dagli agenti e si è spento dopo 269 giorni di coma. Scontri ad Istanbul ed Ankara. Sulla spalla destra invece si parla di economia. Unicredit fa polizia e va in rosso per 14 miliardi. La prima pagina di Repubblica apre sempre con legge elettorale il voto tra i veleni, PD lacerato, ma il patto sull'Italicum regge. Renzi hanno provato a farmi fuori. C'è anche un approfondimento di Roberto Saviano. Sciocca l'economia. Oggi le misure per l'IRPF e la manovra lavoro. Passiamo alla prima pagina del fatto quotidiano. Sempre sul voto dell'Italicum, Renzi nel panico, salvo per 20 voti. E' un approfondimento appunto sui vari emendamenti che sono stati bocciati per un pelo e appunto il gran numero di franchi tiratori che non ci si aspettava. Apriamo il fatto e c'è una buona notizia per quello che riguarda le violenze sulle persone private di libertà. Verrà riaperto il processo per il caso Uva. Giuseppe Uva fu arrestato a Varese in una notte di giugno del 2008 perché stava spostando con un amico alcune transenne stradali. Furono appunto prelevati dai carabinieri e a quel punto l'amico iniziò a sentire le urla di Stefano Uva che morirà poi poche ore dopo in un ospedale. La diagnosi e l'autopsia svelarono una patologia cronica che fu però sicuramente aggravata dalle condizioni e dalle probabili percosse. Si riapre quindi un processo e appunto l'articolo del fatto a firma di Silvia Dornia si conclude la speranza che finalmente a differenza di quello di Stefano Cucchi almeno la morte di Uva non debba essere classificata come malasanità. Spostiamoci sul Corriere della Sera che apre con sconto fiscale in busta paga più detrazioni per i redditi bassi, incentivi a chi assume. In prima pagina si parla anche della legge elettorale, bocciate le preferenze, Camera avanza l'Italicum ma con pochi voti di scarto, l'intesa tiene il PD spaccato. Passiamo a pagina 99, l'apertura è invece un approfondimento sull'emergenza casa, case pubbliche poche e in vendita. Gli sfratti sono raddoppiati dal 2008 ad oggi, il mercato immobiliare è impicchiata, l'aumento degli inquilini che non pagano il canone per sofferenza economica e si parla appunto del piano lupi, la manovra casa che vale 1,6 miliardi e che sembra però incentivare più l'acquisto piuttosto che aiutare chi è in difficoltà nel pagamento dell'affitto. E chiudiamo con lo sport, zero Milan, travolti e fuori da tutto, apre così la gazzetta dello sport sull'eliminazione dalla Champions League, dai ottavi di finale del Milan di Clarence Edorf che ieri sera è stato sconfitto al V7 Calderon dall'Atletico Madrid per 4 a 1 e dice addio ai sogni di gloria europei. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento al giornale radio delle 13 e 15 su 110.unito.it, continuate a seguire gli aggiornamenti sul sito www.futura.unito.it, l'appuntamento con la rassegna stampa è a domani, buona giornata. Buona giornata.